Sono Pablo, referente del presidio di Libera di Ostia e oggi siamo qui davanti a una spiaggia che ha rappresentato per noi un sogno un sogno che abbiamo costruito insieme alla WISP, un italiano sport per tutti, qualche anno fa la spiaggia SPQR ha rappresentato una proposta proporre come rompere un sistema e un modello di gestione degli stabilimenti che ci è sempre stato raccontato come l'unico effettivamente realizzabile allora mi fa piacere che questa iniziativa parta oggi da qui come se fosse un testimone che viene preso in mano per costruire un nuovo percorso un percorso che guardi finalmente le spiagge le spiagge che devono essere libere, pubbliche, aperte ai cittadini perché questo è un bene di tutti e non è un bene dei pochi perché su queste spiagge per questi anni ha dominato il profitto di pochi sullo sfruttamento del lavoro di molti allora forse è arrivato il momento di cambiare questo paradigma a rompere il sistema e il modello che c'è fino adesso e costruire un nuovo erizio a rompere il표io del бор� a rompere il lavoro di mercato a rompere il lavoro di molti